Le eiaculazioni notturne appartenevano al passato, per quanto mi riguardava, o almeno così pensavo. Sollevai la coperta, diedi un'occhiata e mi lasciai sfuggire un lamento di frustrazione mentre risprofondavo nel letto. Cosa mi stava facendo quella ragazza? Chiusi gli occhi rassegnato, mi tornò in mente un'immagine di Red che saltava giù dal ponte assieme a me, con il suo completino intimo di pizzo rosso. E poi Red, senza niente addosso, avvertì uno spasmo. Maledizione! Ero piuttosto patetico. La doccia fredda non mi aiutò. Avevo tre ore prima dell'inizio delle lezioni, quindi mi allenai un'ora sul tapirulan e un'altra con i pesi. Quando mi misi in auto per andare all'università, ero un po' più rilassato. Una volta arrivato, mi sparai la musica a tutto volume nelle cuffie. Ero leggermente in anticipo, come sempre. Di solito mi fermavo a parlare con i miei amici. Facevamo quattro risate, sparavamo qualche stronzata sulle nostre recenti conquiste o ci prendevamo un po' in giro l'un l'altro. Quel giorno, però, non ero dell'umore giusto. Mollai lo zaino sul pavimento dell'aula. Mi stravaccai sulla sedia e tirai giù il cappuccio della felpa, per coprirmi gli occhi in modo da scoraggiare chiunque volesse attaccare bottoni. Perché Red mi evitava come se avessi la lebra? L'avevo incrociata per l'ultima volta qualche giorno prima e gli avevo detto che non sarei stato capace di farmi da parte un'altra volta. Era vero. Lei mi piaceva. La desideravo. Era diversa. Mi suscitava delle emozioni, anche se non avevo ancora capito quali. Mi piaceva pensare di conoscere bene la psicologia delle ragazze. Red sembrava un tipo freddo e controllato, ma potevo sentire un fuoco bruciare lei appena sotto la superficie. In alcuni momenti, quando avevo premuto i tasti giusti per far breccia nella sua aria, apparentemente distante e trattenuta, piano piano quel fuoco si era trasformato in un incendio indomabile. Aveva un temperamento forte e gli occhi le luccicavano per la trepidazione ogni volta che le lanciava una sfida. Tuttavia non avrebbe ceduto, aggrappandosi al suo autocontrollo come a un'ancora di salvezza. Il destino gli aveva servito una brutta mano lasciandola senza casa e senza soldi. Si era costruita un'armatura per proteggersi. Io volevo essere quello che l'avrebbe scalfita lentamente, fino a scoprire la vera donna che c'era sotto. E ricordate, è come vedere un film ad occhi chiusi.